A circa un anno dal debutto del gioco, Nintendo si prepara a pubblicare il primo DLC a pagamento di Splatoon 2, intitolato Octo Expansion, in arrivo nel corso dell'estate al prezzo del 19,99€. A sorpresa, il DLC non riguarderà il gioco online nelle sue varie forme, ma la campagna è in single player. Noi abbiamo avuto la possibilità di testare l'aggiornamento in anteprima e ne siamo rimasti piacevolmente colpiti. La Octo Expansion è una vera e propria nuova campagna in singolo, con oltre 80 livelli ambientati nei tunnel della metropolitana. L'avventura ci porterà a vestire panni di numero 8, un Octoling rimasto senza memoria e destinato a grandi imprese grazie al supporto di vecchie e nuove conoscenze. Nel corso della prova abbiamo potuto mettere le mani su 6 diverse missioni, caratterizzate da una gran varietà di situazioni diverse. La prima missione era ad esempio una ginkana basata sull'attraversamento di anelli di frittura, con il nostro personaggio sospinto solamente dalla propulsione di un jetpack a vernice. Il tutto mentre ostacoli, semoventi e nemici cercavano di intracciare il nostro cammino. La seconda sfida ha invece ribaltato completamente le carte in tavola, puntando con decisione sull'anima da sparatutto, con una mappa fatta di casse di legno disposte a forma di calamaro 8-bit invasa da tre ondate di avversari in grado di distruggere con i loro colpi il pavimento sotto i piedi del nostro avatar. È toccato poi a un improbabile ibrido fra flipper e biliardo, con una gigantesca palla 8 da spingere a colpi di vernice in un'ambientazione piuttosto intrigata, seguito da un livello al 100% in stile platform e da due prove di abilità decisamente ardua, che richiedevano una notevole coordinazione nei movimenti, oltre a una mira non comune. Sulla scia di quanto già visto e sperimentato nella campagna di Splatoon 2, la modalità avventura della Octo Expansion, si dimostra insomma un gustoso mix di platform, puzzle e sparatutto. Un ibrido che differisce in maniera significativa dall'esperienza multiplayer, capace di distinguersi per il ritmo particolare e per il level design decisamente ispirato. L'espansione sembra inoltre dotata di un livello di sfida piuttosto consistente, in grado di stimolare anche i veterani della serie. Non abbiamo avuto modo di esplorare l'hub che farà da collegamento tra i livelli, anche se è confermata la presenza di un mondo parzialmente esplorabile in cui incontreremo diversi personaggi. Considerando che restano almeno altre 74 sfide tutte da scoprire, l'offerta ludica della Octo Expansion promette di offrire ai giocatori un'eccellente quantità di ore di divertimento, caratterizzate da una gran varietà e da un livello di difficoltà da non sottovalutare. Il test preliminare è quindi da considerarsi un successo e non resta che scaldare le ventose in attesa di una data di lancio più specifica. Come al solito, vi invitiamo a seguire tutti gli aggiornamenti sul gioco sulle pagine di verai.it. Grazie.